Ben ritrovati dal Tg di Telepace, il diritto all'istruzione per i bambini di tutto il mondo è stato ribadito dal Papa all'udienza generale di questa mattina, la prima dopo la chiusura del Giubileo, vediamo All'udienza generale di oggi, svoltasi nell'aula Paolo VI, il Papa ha proseguito le sue catechesi sulle opere di misericordia spirituale consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti Papa Francesco ha preso spunto da questi temi per parlare della necessità di una istruzione per tutti i bambini del mondo contro la piaga dell'analfabetismo senza istruzione, ha detto, si diventa facilmente preda dello sfruttamento e di varie forme di disagio sociale per questo ha ricordato l'impegno nei secoli della Chiesa a fianco dei più poveri e l'opera di Santi e Sante che in varie epoche hanno portato istruzioni ai più svantaggiati sapendo che attraverso questa strada avrebbero potuto superare la miseria e le discriminazioni quanti cristiani, laici, fratelli e sorelle consacrate, sacerdoti hanno dato la propria vita nell'istruzione, nell'educazione dei bambini e dei giovani questi pionieri dell'istruzione avevano compreso a fondo l'opera di misericordia e ne avevano fatto uno stile di vita tale da trasformare la stessa società attraverso un lavoro semplice e poche strutture hanno saputo restituire dignità a tante persone e l'istruzione che davano era spesso orientata anche al lavoro in particolare il Papa ha ricordato l'opera di San Giovanni Bosco esprimere la misericordia verso i dubbiosi equivale a allenire quel dolore quella sofferenza che proviene dalla paura e dall'angoscia che sono conseguenze del dubbio è pertanto un atto di vero amore con il quale si intende sostenere una persona nella debolezza provocata dall'incertezza ci sono poi dei dubbi che fanno crescere come quelli della fede che se sono dubbi che spingono a crescere nella consapevolezza i dubbi che toccano la fede in senso positivo sono un segno che vogliamo conoscere meglio e più a fondo Dio Gesù e il mistero del suo amore verso di noi è un bene quindi che ci poniamo delle domande sulla nostra fede perché in questo modo siamo spinti ad approfondirla i dubbi comunque vanno anche superati è necessario per questo ascoltare la parola di Dio a comprendere quanto ci insegna e c'è al tempo stesso un'altra strada ugualmente importante quella di vivere il più possibile la fede il patriarcato di Mosca e la Santa Sede sono uniti nella comune preoccupazione per le sofferenze dei cristiani nel mondo di oggi in particolare in Medio Oriente, Nord Africa e altrove lo ha detto il patriarca di Mosca e di tutte le russe Kirill al cardinale Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani nell'incontro che si è tenuto ieri a Mosca è stata presentata questa mattina in arcidiocesi a Milano un'iniziativa benefica denominata i regali del cardinale per chi ha perso il lavoro ovvero i regali che l'arcivescovo ha ricevuto in dono saranno messi a disposizione di quanti vorranno fare un'offerta le offerte raccolte serviranno a finanziare i tirocini formativi in azienda promossi dal fondo Famiglia Lavoro il servizio di Giacomo Biancardi la diocesi di Milano ha lanciato questa mattina l'iniziativa benefica ai regali del cardinale per chi ha perso il lavoro sono 54 gli oggetti che il cardinale Angelo Scola ha ricevuto in dono e per i quali saranno corrisposte delle offerte da parte dei cittadini milanesi ciò che verrà raccolto servirà per finanziare i tirocini formativi in azienda promossi dal fondo Diamo Lavoro ovvero la versione 3.0 del fondo Famiglia Lavoro messo a punto dalla diocesi per offrire una concreta opportunità alle persone disoccupate ciascuno di questi tirocini costa mediamente 3.000 euro sono donazioni fatte anche anonimamente ci sono alcuni pezzi che sono stati portati a me sapendo che ero io la responsabile di questa azione per il cardinale acquistati o donati partendo dal proprio patrimonio al cardinale proprio esplicitamente per il fondo Famiglia Lavoro è un bel segnale quello che arriva comunque da Milano è un bel segnale, il cardinale è molto contento di questa cosa perché nei primi anni erano proprio oggetti che gli erano stati regalati o a Venezia o a Milano e lui li ha messi a disposizione ci concentreremo sulla misura che ci sembra più efficace per aiutare le persone che sono disoccupate da breve periodo cioè quella di favorire un incontro tra le imprese e il territorio che dobbiamo naturalmente individuarle è uno dei lavori aggiuntivi che il fondo Famiglia Lavoro si assume con i propri operatori sul territorio insieme ai rappresentanti delle aziende appunto quello di individuare queste aziende e inserire in queste aziende le persone che hanno le caratteristiche adatte per quel tipo di lavoro che magari può essere preceduto anche da un percorso formativo ad hoc ma poi deve appunto sperimentarsi in questi tirocini che sono appunto finanziate da delle borse lavoro che vengono appunto sostenute dal fondo Famiglia Lavoro con questa iniziativa e con questa attività che richiede anche un preciso accompagnamento da parte degli operatori del fondo si pensa di poter aiutare in maniera più efficace le persone disoccupate che comunque sono ancora tante E dopo questa bella iniziativa parliamo del rapporto sulla grave marginalità presentato ieri dalle Caritas del Triveneto vediamo la scheda tratta dall'agenzia SIR il 50,3% delle persone accolte nelle strutture residenziali delle 15 Caritas diocesane del nord-est sono italiani con problemi diversi legati alla mancanza di casa reddito, lavoro relazioni, salute autonomia psicofisica istruzione e socialità o condipendenze o devianza gli stranieri comunitari sono il 5,6% gli extracomunitari il 44,1% più giovani e con problemi minori a parte la scolarità è quanto emerge da un rapporto sulla grave marginalità reso noto ieri dalle Caritas delle 15 diocesi del nord-est che contano 130 strutture censite mentre il numero complessivo delle strutture Caritas è di 206 dedicate all'accoglienza di persone in grave, gravissima marginalità sociale le strutture che offrono posti letto dal primo giugno 2015 sono 980 di cui 346 dormitori emergenza 314 case accoglienza utenza eterogenea 13 case famiglia minori e madri 139 alloggi semiprotetti 134 alloggi in autonomia 34 housing first nelle strutture di accoglienza prese in esame vi sono 196 operatori dipendenti e 663 volontari i dati, ha evidenziato Paolo Molinari ricercatore scientifico dell'IRES del Friuli Venezia Giulia rilevano che gli italiani accolti nelle residenze della Caritas sono il gruppo più problematico per il futuro la rete di Caritas per la gravissima marginalità sta pensando ad un cambio di rotta che porti fuori dei dormitori più persone possibile spostando l'accoglienza verso il modello degli alloggi in autonomia associato ad un progetto individualizzato attraverso una presenza educativa 467 mila morti causati dall'inquinamento in Europa sono i dati del rapporto qualità dell'aria in Europa 2016 pubblicato stamattina dall'Agenzia Europea per l'Ambiente anche se la qualità dell'aria in Europa sta migliorando l'inquinamento atmosferico rappresenta il principale fattore ambientale di rischio per la salute umana abbassa la qualità della vita della causa stimata appunto di 467 mila morti premature l'anno in tutto il continente significativa la pubblicazione del rapporto nella data odierna quando a Strasburgo il Parlamento Europeo vota la direttiva che introduce nuovi limiti alle emissioni inquinanti per il periodo 2020-2030 sono passati 40 anni dalla morte della serva di Dio Lucia Schiavinato avvenuta il 17 novembre 1976 a Verona la fondatrice dei piccoli rifugi presenti in varie città tra cui Verona si è dedicata alle persone adulte con disabilità sabato alle 18.30 a Santa Maria Regina Verona si terrà la messa con il vescovo Monsignor Zenti questa mattina siamo stati nella sede del piccolo rifugio di Verona che vede il sostegno di una sessantina di volontari l'ho conosciuta sì perché sono entrata nel 62 a Villa Mirandola quando avevano aperto il piccolo rifugio voluto da Monsignor Carraro che veniva da Vittorio Veneto e che ha visto nascere tutta la famiglia dei piccoli rifugi ed è stato sostenitore di Mamma Lucia in questi anni il piccolo rifugio è una comunità alloggio sono presenti 15 ospiti sia maschi che femmine ed è in convenzione con l'ULS però la peculiarità di questo posto è che vogliamo portare avanti lo spirito di famiglia di Mamma Lucia della fondatrice e negli anni cerchiamo proprio come dipendenti di portare avanti la sua mission voluta anche dalle volontarie della carità e quindi di dare un luogo di accoglienza un luogo in cui si possono fare anche delle attività con queste persone disabili per avere con loro diciamo per dare modo a loro di esprimersi in tutte le loro possibilità se devo parlare di Mamma Lucia è stata una persona eucaristica nel vero senso della parola è stata una persona mistica e andiamo proprio nei grandi livelli insomma per cui lei era diventata eucaristia perciò è l'eucaristia che porta agli altri e allora noi come volontarie che abbiamo assunto questo impegno e naturalmente dobbiamo cibarci molto dell'eucaristia perché l'eucaristia ti porta a tutte loro e anche fuori perché lei ci raccomandava sempre ricordatevi che ci sono persone in famiglia che sono sole nelle corsie degli ospedali loro hanno anche gente che viene perché la casa è molto animata vede persone che vengono a fare volontariato uscite la parrocchia dove siamo ben accolte però ecco l'eucaristia è molto importante perciò noi abbiamo la messa tutti i giorni chi vuole viene a messa ed è lui però che porta veramente alla citazione della loro infermità perché pensi che sono ragazze che non hanno nessuna speranza di guarigione e sono qui dalla mattina alla sera per tutti gli anni della loro vita che sono naturalmente in croce però sono molto serene perché lui tutto aiuta ma lui è quello che fa tutto il signore il signore a 30 anni dalla morte viene presentata la prima biografia ufficiale di don luigi pedrollo che fu amico di san giovanni calabria e primo successore del santo veronese che si dedicò alla cura e alla promozione dei ragazzi abbandonati e poveri il libro che ne racconta la vita e le opere è scritto da giuseppe perazzolo che ha svolto un lungo lavoro di ricerca d'archivio e nei diari personali di don pedrollo don pedrollo morì in concetto di santità il 16 febbraio 1986 a san zeno in monte a verona alla presentazione che si terrà sabato alle 10.30 appunto a san zeno in monte oltre all'autore interverranno il vescovo di verona monsignor zenti e il superiore generale dell'opera calabriana padre miguel tofful a milano la fondazione ambrosianeum da 70 anni è un punto di riferimento solido nel panorama culturale per conoscere più da vicino questa importante realtà abbiamo incontrato il presidente Marco Garzonio vediamo parliamo della fondazione ambrosianeum cominciamo con il ricordare quella che la sua specificità è un punto di riferimento nel dibattito culturale di milano da 70 anni sì noi siamo nati nel 46 sulle macerie proprio della guerra quando bisognava ricostruire la città l'intuizione dei fondatori il cardinale Schuster Giuseppe Lazzati Enrico Falche e tanti altri intellettuali operatori dell'epoca era che Milano andasse ricostruita con Milano il paese non soltanto dal punto di vista economico materiale eccetera ma andasse anche ricostruita dal punto di vista morale ideale della convivenza civile e soprattutto del legame fra grandi valori ideali religiosi cristiani e l'operatività di tutti i giorni una forte caratterizzazione laica quella della fondazione è fatta da laici che riconoscono e si riconoscono nella chiesa soprattutto in questo momento col dono che abbiamo di Papa Francesco ma che vivono la laicità secondo l'insegnamento di Lazzati e cioè far bene il proprio mestiere cercando in ogni momento di declinare l'ispirazione evangelica con la propria professionalità con la propria capacità di fare bene quello che si fa e nello stesso tempo all'interno di un contesto familiare affettivo relazionare che possa assicurare il bene comune quali sono le affinità che potevano avere allora i fondatori della vostra fondazione quelle che avete oggi voi nel proporre il vostro messaggio culturale alla vostra proposta di riflessione con quello che sta succedendo oggi credo che la ricostruzione è un termine attualissimo oggi certo è una ricostruzione difficile rispetto alle macerie del 46 ma non possiamo non parlare di ricostruzione con quello che sta succedendo nel mondo con quello che sta succedendo sulle nostre coste con i profughi che arrivano con quello che sta succedendo in questo momento nella politica nella vita culturale e sociale di questo paese così preda di contrasti di squalifiche di incapacità di dibattere di incapacità di cercare insieme pur nelle diversità delle soluzioni che portino fuori da una crisi che ormai è una crisi sempre più di carattere etico sempre più di carattere culturale di carattere di convivenza di regole di convivenza oltre che evidentemente di carattere economico come state celebrando questo anniversario? lo abbiamo fatto con una serie di iniziative una riguarda la coincidenza fortunata tra il centenario della nascita di padre David Maria Turold un grande poeta un grande frate un grande uomo erede del concilio nello stesso tempo cercando di riproporre i valori fondanti nel nostro centro con una serie di riflessioni di carattere storico qual è stato l'apporto dei cattolici nella costruzione del paese dopo la guerra nello stesso tempo cercando di sognare insieme le linee di sviluppo almeno per i prossimi 20-30 anni della città del contesto lombardo e del paese stesso apre domani la 26esima edizione di Job e Orienta a Verona il Salone Nazionale dell'Orientamento la scuola la formazione e il lavoro fino a sabato alla Fiera di Verona promosso da Verona Fiera e Regione del Veneto una tre giorni di rassegna espositiva ma anche di dibattiti e seminari con al centro il tema imparare lavorando in Italia si può l'inaugurazione ufficiale domani alle ore 10 missionari in Italia le suore di Gesù Eterno Pastore come le religiose di altre congregazioni hanno scelto di rimanere nel nostro paese grazie al contributo di vocazioni maturate all'estero nella casa di Santa Margherita Ligure che si trova nel golfo del Tiguglio tra le altre presta servizio una giovane suora proveniente dalle Filippine vediamo da quando che c'è questa casa nel 58-59 perché la nostra madre soffriva molto di polmoni bronchi lei ha passato quasi un anno di seguito qui si è chiamata la casa dei sacerdoti vi sono venuti parecchi che hanno ritrovato la vita e la speranza di fecondità di ministero e poi mamma è andata ampliandosi famiglie con piccoli anziani chi ha bisogno di mare e cerchiamo di fare dell'apostolato qui abbiamo appunto la cappella la messa alcuni partecipi la messa parecchi domenicali e poi anche durante la settimana il rosario di una sera e poi quando magari chiedono preghiere per vari motivi e lì si dice una parola si promette e si prega insieme queste occasioni diciamo la suora Maria Marcella collabora con la parrocchia collabora con il paroco perché appena sono arrivata qua lui ci ha chiesto collaborazione in parrocchia e allora con un seminarista Salvatore che viene da Chiavari viene a sabato e di domenica alla messa noi animiamo la messa dei bambini noi possiamo dire che siamo abituati ai missionari che vanno ma qui possiamo dire che siamo di fronte ad una missionaria che invece è venuta da lontano penso proprio così perché non avrei mai pensato di entrare in una congregazione e poi arrivare in un'altra nazione io non avrei mai voluto di venire in Italia praticamente però poi alla fine ci hanno chiesto un anno di esperienza per conoscere la nostra lealtà quando poi si parla di fare domanda per la missione l'ho fatta anch'io solo che la madre generale mi risponde sei già in missione bene e in chiusura vi ricordo che domani sempre a Verona questa volta inizierà il festival della dottrina sociale della chiesa giunto alla sesta edizione Telepace lo seguirà con diversi appuntamenti in diretta a partire dall'inaugurazione domani sera alle ore 20 e 30 è tutto grazie per essere stati con noi a partire a partire a partire